Appuntamento alle Fornaci e a Terra Nuova nel prossimo fine settimana per i saggi di fine anno, sia per l'ambito musicale che per la scuola di Ottava Rima, delle classi dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, sabato e domenica, spazio appunto alla musica. Due importanti saggi di fine anno scolastio. I ragazzi li presenteranno ai loro compagni e alla cittadinanza. È un momento importante di restituzione dei progetti che vengono svolti a scuola, perché se è vero che all'interno della scuola si fa cultura, è anche vero che la scuola trasmette la cultura presso la propria cittadinanza e presso la propria comunità. Questi sono momenti importanti, quindi raccomando la popolazione di potervi partecipare e in qualche modo di contribuire attraverso la conoscenza dei progetti stessi. Venerdì mattina invece ecco l'Ottava Rima, disciplina nella quale Terra Nuova è tra le capitali d'Italia. Venerdì mattina, venerdì 26 maggio, all'Auditorium Le Fornaci ci sarà il saggio conclusivo del laboratorio di Ottava Rima di questo anno scolastico. Quest'anno in particolare sarà interessante seguire il lavoro fatto dai ragazzi della terza B e dai loro docenti di Ottava Rima, che sono Marco Betti e Lorenzo Michelini che oramai da tanti anni collaborano appunto con l'ufficio, con il Comune e con l'Istituto Comprensivo per accompagnare i ragazzi in questo percorso di conoscenza delle forme tradizionali di poesia e di canto. Quest'anno in particolare è interessante perché hanno ripreso un'antica forma teatrale popolare, la zinganetta che era molto diffusa e molto amata nelle nostre zone e ci hanno fatto un adattamento dei promessi sposi.